Buongiorno e benvenuti a Zoom sulla città per un nuovo appuntamento dedicato alle attività del Comune di Napoli. L'ospite di oggi è l'assessore al verde e alla salute Vincenzo Santagada. Buongiorno assessore. Grazie, buongiorno a tutti. Cominciamo dunque con un nuovo servizio offerto ai cittadini sul sito web del Comune di Napoli. Oggi infatti è possibile seguire in tempo reale le attività che riguardano il verde cittadino. Basta andare sulla pagina dedicata a quella che state vedendo ora in sovraimpressione. Come funziona questo servizio? Una bella domanda anche perché sin dalle prime battute quando ho avuto l'onore di avere questa delega da parte del sindaco ho detto che mi sarei impegnato nella digitalizzazione del verde. Questa è la risposta a quanto era stato detto. Abbiamo generato questa mappa georeferenziata. Sono riportati tutti gli interventi di riqualificazione bonifica effettuati dal primo gennaio ad oggi per quanto riguarda tutte le aree relative al verde orizzontale. In questo momento abbiamo fatto 102 interventi che è un numero rilevante se consideriamo che sono relative ai tre mesi più freddi. È un numero quasi prossimo a quelli che sono stati gli interventi fatti per l'intero 2021. Il cittadino può vedere tutti gli interventi effettuati sulle 10 municipalità oppure se è interessato solo a una singola municipalità basta biffare la municipalità 1 ad esempio e lì sono riportati tutti gli interventi effettuati. Ci sono anche delle fotografie abbiamo visto sopra il sito perché vengono anche riportate. Oltre al dettaglio tecnico ci sono anche proprio delle dimostrazioni. E questa è la partecipazione attiva che io avevo in mente. Il cittadino può andare sul sito bonificato che viene segnalato attraverso una bandierina, clicca sopra, esce il giorno di intervento, chi l'ha fatto l'intervento e poi escono anche le schede di lavorazione dove sono riportate le immagini relative a come abbiamo trovato il sito e come è stato trovato. Come funziona? In pratica gli esecutori tecnici hanno completamente l'intervento attraverso un'app che noi abbiamo donato loro, caricano l'intervento effettuato e in automatico viene caricato sulla mappa georeferenziata. Quindi è una mappa che si autoalimenta sulla base di interventi che vengono completati dagli esecutori tecnici che possono essere i giardiniere che appartengono al lab polifunzionale di Soccavo, o da primavera 3 oppure dalla cooperativa il 25 giugno. Questa è un'esperienza innovativa, risulta già applicata in qualche altro luogo? No, non mi risulta, però voglio informare i cittadini napoletani che questa è solo la prima parte perché su questa mappa georeferenziata verranno caricati adesso anche gli interventi che verranno fatti dai percettori di reddito che partiranno la prossima settimana, ma anche quegli interventi che in piena sinergia, in piena collaborazione con la regione Campania stiamo facendo all'interno dei parchi municipali attraverso un progetto che vede come protagonisti i BROS. Su questo sto costruendo, sempre sulla stessa mappa georeferenziata, anche l'intervento relativo alle aree cimiteriali. Per noi è un dovere mettere a conoscenza la comunità di ciò che facciamo, però nello stesso tempo chiediamo anche una piena condivisione e collaborazione per la tutela del verde. Ci fermiamo un attimo meglio su questo argomento, i progetti di utilità collettiva, in particolare per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Noi sappiamo che il Comune di Napoli ha appena cominciato con 350 percettori di reddito che hanno l'incarico di affiancare il personale comunale nella manutenzione del verde pubblico. A me innanzitutto incuriosisce una cosa, come è stata accolta da parte di queste persone l'offerta del Comune di partecipare a una funzione di bene collettivo? Già il Sindaco aveva annunziato questo tipo di percorso pienamente condiviso che è un percorso di inclusione sociale. Su questo ho consigliato di ringraziare anche la collega, l'assessore Marciani che ha collaborato per quanto riguarda l'organizzazione delle persone che volontariamente hanno deciso di partecipare a questa crescita della città. Insieme loro vogliono condividere con noi questo percorso e mi auguro che un domani possa essere anche un riconoscimento professionale da parte loro. Però questo è un aspetto politico, sociale di livello nazionale che non appartiene a noi. Però la parte vincente, la parte più bella che ho visto, c'era grande entusiasmo da parte loro, sono state rilasciate delle dichiarazioni veramente incoraggianti perché noi vogliamo contribuire alla crescita della nostra comunità, a valorizzare i nostri spazi. Vogliamo dare anche qualche dettaglio tecnico sull'organizzazione del lavoro? Loro si occuperanno di rimuovere il rifiuto indifferenziato nelle fioriere, nelle fonti arbore, nell'aiuolo, nelle aree attrezzate e nei piccoli parchi che sono di competenza municipale. Perciò si parla di accompagnamento. Esatto, di accompagnamento. Andiamo a chiudere il cerchio. Noi puliamo e questo lo stiamo facendo e lo stiamo partecipando ai cittadini attraverso la mappatura georeferenziata. Loro dovranno contribuire a mantenere questo spazio verde in modo pulito e in modo adeguato. Sotto un coordinamento centrale che è fatto dall'architetto Mauro Forto, che è stato uno che ha collaborato e ha contribuito affinché questo progetto anche si realizzasse. Poi abbiamo altre 50 unità di percettura di reddito invece che affiancheranno gli esecutori tecnici, quindi i giardinieri, presso il lab polifunzionale di Soccavo e quindi in modo tale da incrementare quella che è proprio la forza del lavoro per quanto riguarda gli esecutori tecnici, sempre previa formazione. Io penso che così, con la collaborazione dei percettori di reddito, con la collaborazione dei cittadini che dovrebbe esserci sempre, veramente nel giro di poco tempo potremmo restituire alla nostra comunità, alla nostra città, un verde più pulito, un verde più fruibile in modo tale che in una società post-covid che tenda a isolarsi, possa rappresentare anche un sito dove si possano favorire gli aspetti relazionali. Grazie Assessore, grazie a tutti voi per averci seguito e vi diamo appuntamento al prossimo approfondimento.